Il basilico, grazie al suo aroma intenso e piacevole, viene molto utilizzato in cucina per insaporire qualsiasi cibo, verdure, insalate, formaggi, carni e pesce. Ma questa erba aromatica non è soltanto una spezia per aromatizzare i nostri piatti, ma un vero e proprio rimedio medicinale, conosciuto per le sue proprietà benefiche sull'organismo. Il basilico ha notevoli proprietà salutari ed è ricco di innumerevoli minerali e nutrienti. È un'ottima fonte di manganese, oltre che di rame, calcio, ferro, acido folico e acidi grassi omega 3. Il basilico è ricco di magnesio, un minerale essenziale dalle ottimi proprietà rilassanti, alimentari, sia per i muscoli che per i vasi sanguigni. Il basilico è anche un'ottima fonte di vitamine, tra cui la vitamina K, C e la vitamina A. In una parola, questa erba aromatica possiede molte proprietà medicinali benefiche per la nostra salute. Scopriamo insieme le proprietà del basilico, e i suoi benefici per la salute, controindicazioni e possibili effetti collaterali. Le proprietà terapeutiche del basilico. È un ottimo immunostimolante. Grazie all'azione della vitamina C, rinforza il sistema immunitario. Mangiare regolarmente il basilico ti aiuterà a proteggerti da mal di gola, raffreddore e malanni di stagione. Rafforza il sistema cardiovascolare. Il basilico è una buona fonte di magnesio, un minerale che rilassa la muscolatura ed i vasi sanguigni. Così migliora il flusso sanguigno e diminuisce il rischio di irregolarità del battito cardiaco. Il magnesio ed il beta carotene apportano benefici alle arterie e dai vasi sanguigni, contribuendo così a mantenere in salute il sistema cardiovascolare. Proprietà antibatteriche. Il basilico possiede proprietà antibatteriche, ed è questo un motivo in più per includerlo nella nostra dieta. Studi hanno scoperto che alcune sostanze contenute nell'olio essenziale del basilico, hanno proprietà in grado di contrastare la crescita di molti tipi di batteri. Grazie agli antiossidanti che contiene, è molto importante nella lotta ai radicali liberi, che provocano un invecchiamento cellulare precoce. Proprietà antinfiammatorio. Il basilico svolge un'azione antinfiammatoria, per cui l'assunzione di foglie crude di questa erba, potrebbe essere utile a combattere diversi tipi di infiammazione, e nel trattamento di alcune malattie come raffreddori. Si è dimostrato efficace nella alleviare i sintomi di persone affetti da problemi infiammatori, come artrite reumatoide e intestino infiammato. Potrebbe essere utile anche in caso di presenza di gas e di dolori localizzati. Aiuta a combattere il diabete. Gli estratti di questa erba aromatica possono apportare benefici ai diabetici. Gli oli essenziali presenti nelle foglie di basilico, possiedono la proprietà di ridurre i livelli di glucosio nel sangue, ed ha anche effetti benefici nella riduzione del colesterolo LDL, e dei trigliceridi. Numerose prove cliniche hanno dimostrato, che il basilico può proteggere il fegato e i reni dal danno metabolico, causato da alti livelli di glucosio. Migliora la salute delle ossa. Il consumo regolare di basilico apporta un livello adeguato di vitamina K, essenziale per migliorare la salute delle ossa. Questa vitamina ha un ruolo fondamentale nel rafforzamento e nella mineralizzazione delle ossa. Un deficit di vitamina K viene associato ad un maggior rischio di fratture osse. Inoltre migliora l'assorbimento di calcio, e ne riduce l'eliminazione tramite l'urina. Abbassa il colesterolo. Il basilico è ricco di beta-carotene, potente antiossidante utile a contrastare il colesterolo apportando benefici a tutto il sistema cardiovascolare. Aiuta a evitare attacchi di cuore e aterosclerosi. È un ottimo digestivo. Così come il prezzemolo e alcune altre piante aromatiche, anche il basilico favorisce la produzione di succhi gastrici migliorando la digestione. Oltre a stimolare l'appetito, il basilico è usato in caso di inappetenza e come rimedio naturale per calmare dolori intestinali. Puoi usarlo al naturale, o bere una tisana se hai la digestione lenta e difficoltosa. Esistono diverse tisane contenenti basilico, con proprietà che facilitano la digestione e favoriscono l'appetito. Utile per le vie respiratorie. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, il basilico è utile in caso di influenza, mal di gola e affezioni respiratorie. Questa erba è un valido aiuto per curare raffreddore, tosse, bronchite, asma. Si possono utilizzare sia gli oli essenziali di basilico, che le foglie fresche per preparare degli infusi. Utile per pelle e capelli. Grazie alle sue proprietà antiossidanti, il basilico aiuta a ritardare l'invecchiamento cutaneo. È un ottimo rimedio per donare lucentezza ai capelli spenti. Il infuso di basilico può aiutare anche a contrastare la caduta dei capelli e a combattere l'alopecia. Usare questo rimedio naturale ha un effetto tonificante e rilassante sulla pelle, ed è utile per combattere la cellulite. Tisana al basilico. Questa erba aromatica rientra come ingrediente per tisane digestive. Per preparare la tisana, lasciare le foglie di basilico lavate precedentemente in infusione in acqua calda per circa 10 minuti. Si può aggiungere altri ingredienti come il succo di limone, lo zenzero, i semi di finocchio. Per un effetto rilassante, lo si può associare a camomilla, tiglio o valeriana. Oltre ad essere un perfetto alleato in caso di cattiva digestione, la tisana al basilico aiuta ad alleviare la cefalea e ad evitare gli effetti dello stress. Controindicazioni e potenziali effetti negativi. Il basilico generalmente non ha controindicazioni particolari, ma come per tutti i cibi anche può scatenare allergie o intolleranze alimentari. Questa spezia è sconsigliata in chi soffre di allergia al parietaria. Il consumo di basilico va evitato in gravidanza, perché potrebbe causare la toxoplasmosi, una malattia dannosa al feto. Questa pianta è controindicata anche per persone che soffrono di epilessia. Infine il basilico non deve essere consumato in grandi quantità, altrimenti potrebbe causarvi sintomi spiacevoli, tra questi il mal di pancia. Se il video ti è piaciuto iscriviti al nostro canale, lascia un commento e metti mi piace.